18 novembre 1944 nasce a casanova di carinola in campagna l'archeologo francescano padre michele piccirillo biblista giunge giovanissimo in terra santa dove si dedica agli scavi archeologici contribuendo alla scoperta di numerose chiese proto cristiane e alla città di un marra sas con i suoi numerosi mosaici ma il suo nome è legato alla campagna scavi sul monte nebo lo sperone di roccia sopra la valle del giordano da dove prima di morire mosè vide la terra promessa muore a livorno nel 2008